È un tempo propizio questo per comprendere quanto sia prezioso il legame che unisce l'uno all'altro. E in questo prezioso legame la Caritas rappresenta un collante fondamentale, come nel caso del nuovo centro di accoglienza San Giovanni di Via Puzzi a Busto, nato nel 2020 in piena pandemia. Le difficoltà non sono mancate, ma pian piano, sottolinea il responsabile Don Francesco Casati, sono state superate. Nella sede è a disposizione un grande magazzino per gli alimenti e un reparto attrezzato per i vestiti. Sono 120 le famiglie seguite, pare a 360 persone e finora ben 1230 i pacchi spese distribuiti, materiale che il centro acquista attraverso donazioni provenienti dal banco alimentare o da privati. Tra le persone che faticano a vivere sono soprattutto gli stranieri a chiedere sostegno, per lo più donne provenienti in particolare dal Marocco, seguono i peruviani e ultimamente i profughi ucraini, ma non manca qualche italiano. I beni di prima necessità più richiesti alla sede di Via Puzzi sono pasta, olio, riso, zucchero e tonno in particolare, per le persone di religione musulmana che non mangiano carne. Il centro è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 11.30 e al sabato, nello stesso orario, per le pratiche di ascolto. Per quanto riguarda invece la distribuzione degli alimenti, lo facciamo il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 18.30. È chiaro che i volontari sono ben accetti, che siano soprattutto persone giovani. Noi abbiamo anche un bel gruppo di ragazzi che ci danno una mano, poi dopo i ragazzi li impegniamo in certe cose e non in altre. Per esempio il signore guardano i più vestiti, i ragazzi vanno avanti e indietro a preparare le borse. Noi siamo più di una trentina di persone, però volontari in più ci servono, soprattutto magari con qualche competenza informatica o di gestione dell'ambiente, un po' di mano d'opera, un po' di sana manualità ne abbiamo bisogno.